buongiorno a tutti eccoci qua per una ricetta super veloce di pizzette allo yogurt buonissime e light gli ingredienti sono solamente questi 150 grammi di farina di semola rimacinata 160 grammi di yogurt greco 9 grammi di lievito istantaneo per preparazioni salate e un pizzico di sale inseriamo il lievito nella farina misceliamo e aggiungiamo lo yogurt giriamo per bene aggiungiamo il pizzico di sale e ora procediamo a impastare incorporiamo per bene farina alla farina allo yogurt fino a farlo diventare un panetto liscio senza grumi e poi trasferiamo sulla spianatoia ecco qua ora che il nostro panetto è formato non ci resta che stendere col mattarello un disco di pasta di circa mezzo centimetro di spessore stendiamo con carta forno e mattarello aggiungendo di tanto in tanto un po di semola eccoci qua quando abbiamo raggiunto circa mezzo centimetro di spessore aiutandoci con un coppapasta formiamo le pizzettine con l'impasto che rimane impastiamo di nuovo e ristendiamo inforniamo ecco le nostre 6 pizzettine venute alla perfezione inforniamo a 200 gradi per circa 10 15 minuti e poi le condiamo come più ci piace e vi farò vedere il risultato finale arrivato a questo punto di cottura dopo dieci minuti spennelliamo con un po d'olio pochissimo aggiungiamo un cucchiaino di pomodoro di passata di pomodoro a crudo poi potete condire come volete questa è solo un'idea ma vanno condite come più ci piace possiamo mettere anche solo del del parmigiano oppure solamente del del formaggio del delle olive con origano decidete voi io vi sto facendo vedere solo come procedere a metà cottura stavamo dicendo dovete condire le vostre pizzettine e rimetterle per altri 5 6 minuti sotto il forno va bene a dopo eccole qui appena sfornate io fate stare anche giusto 23 minuti sotto il grill